Ecco fatto oggi Esatto che ecco Ok Ok solo oggi sta qua Te lo scrivo io dopo Gloria e l'ippobotamo Solo oggi a casa di nonne te lo scrivo io dopo sempre Gloria e l'ippobotamo Esatto che ecco solo oggi Madagascale Ok la settimana prossima te lo scrivo io Madagascale Che costa qua? Sì questo è Ok Ok che costa qua Ok Non vedo niente Ok ma non parlare con la bocca piena Ah ecco qua Ma che ci faceva questa là dentro? Buon compleanno Oh Grazie amico L'avevi piazzata dietro il dente Solo oggi sta con Ecco guarda guarda dai l'occhiata Oh vedi Oh guarda nevica Hai dieci anni Tondi tondi Vuoi belle cifre? Sei maturo Non ti piace? Che cosa o no? Che costa qua oggi ce lo scrivo più tardi Ah come prenderti l'Alex radio sveglia? Era meglio Quella va per la maggiore Ma no no Il regalo va bene davvero Però sai, un altro anno è passato e io faccio sempre ancora le stesse cose Sta fermo lì, rotta di là, mangia un po' d'erba e adesso torna qua Capisco il problema Magari mi scrivo a legge Ma tu devi spezzare questa noiosa routine E come? Puta via il copione, mettiti in gioco, puoi fare tutto, puoi inventare man mano Devi... in estemporanea, improvvisa, bum 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 Solo oggi te lo scrivo Rinfrescata, eh? Ok, rinfrescata sia Per me funziona Arriva di Sapiens, parti Oh, adoro i Sapiens Fai col divertimento Porta Gloria, svegliati, siamo aperti Che giorno è? È venerdì, ci sono le gite? Sì, è il giorno delle gite, alziamoci partite 10 minuti